Un ragazzo che tessereremo, che diventerà fortiere del mio dal prossimo luglio, è in visita a San Siro, per cui Gabriel viene a far te. E la carambata è riuscita con i fiocchi. Durante un incontro con i dirigenti e con gli osservatori del settore giovanili del diavolo, ad Adriano Gagliani è riuscito di presentare il terzo nuovo innesto del Milan 2012-2013. Dopo Montolivo e Tre Eurè, con quest'ultimo che era ieri inviaturati, oggi è stata la volta di Gabriel, portiere brasiliano, dalle grandi prospettive. Sentite come lo presenta entusiasta lo stesso Gagliani, dopo averci passeggiato insieme e averlo conosciuto meglio. Lui è Gabriel, il portiere campione del mondo under 20 con il Brasile, non ha ancora 20 anni, è un 92, non ha ancora compiuto 20 anni. Non è cresciuto nel nostro settore giovanile, ma nel settore giovanile del Cruzeiro e di Bielorizzonte. Da luglio verrà tesserato per il Milan, sarà uno dei tre portieri della prima squadra. Non ha ancora 20 anni, ma l'hanno cresciuto bene. I nostri osservatori che l'hanno seguito in Brasile in questi anni ne parlano molto bene. Benvenuto a San Siro, vai a fare un giro adesso così vedrai gli spogliatoi, il campo e tutto il resto. In bocca al lupo e ci rivedremo poi nel mese luglio, quando comincerà la preparazione e verrà tesserato per me. In bocca al lupo.